Probabilmente è colpa mia, probabilmente me la sono ufato io, perché nell'ultimo video che ho pubblicato veramente un'ora e mezza fa, terminavo dicendo secondo me inizieremo a vederci due o tre volte al giorno e di fatti è così. È successo qualcosa nel frattempo, sembrava strano ma è successo ed è successo qualcosa internamente alla Juventus, perché avevamo questa lista di giocatori considerati esuberi, che immaginavamo dovessero essere tutti destinati a lasciare la Juventus, che in questo momento va a svuotarsi non per una cessione, bensì per un reintegro in rosa. Tiago Motte e McKennie hanno parlato, hanno discusso, il calciatore potrebbe essere riaggregato alla rosa della prima squadra della Juventus, il giocatore potrebbe essere tolto dal mercato e addirittura andare a firmare un rinnovo di contratto alle condizioni della Juve. Questa è la notizia di Giovanni Albanese, pubblicata pochi minuti fa su Twitter, e allora ragazzi qui si apre un mondo di discussione. Gigante! Partendo dal primo presupposto, Weston McKennie, che l'anno scorso meritava assolutamente il rinnovo di contratto per la stagione che aveva fatto, non alle cifre che voleva lui, ma alle cifre proposte dalla Juve, quindi dal punto di vista sportivo McKennie meritava la conferma, oggi fa una grande, grandissima brutta figura per me. Cioè la figura che fa McKennie è pessima, perché è di un giocatore che ha dimostrato di aver messo al primo posto il denaro piuttosto che il campo da calcio, che aveva accettato un'altra destinazione, e nel video che ho pubblicato un'ora e mezza fa vi dicevo, io non credo che McKennie andrà a giocare a Firenze, credo che gli standard di McKennie siano superiori, che il giocatore si stia sopravvalutando, ha rifiutato pure la Premier League, di una squadra che faceva la Champions, le offerte che sono arrivate, poi sono offerte da squadre ambiziose, come la Fiorentina che stanno costruendo un progetto, o squadre turche, non si è parlato di club di primissimo piano, si è parlato del Real Madrid, si è parlato del Manchester City, già la Juventus per me, per me McKennie, è assolutamente di altissimo livello, e infatti, ripeto, per me il giocatore si è un po' sopravvalutato, si è visto in dimensioni probabilmente distanti da quelle che sono la sua realtà oggi, perché poi è un giocatore classe 98, quindi ancora qualche margine di crescita, come McKennie, un giocatore interessante, un giocatore che, ripeto, l'anno scorso per me è stato il miglior centrocampista da Juventus, quindi dal punto di vista sportivo, il rinnovo se l'era meritato, ma che dopo tutta questa faccenda, secondo me non ne esce benissimo, si è reso conto che le offerte non arrivavano dal punto di vista sportivo, o non arrivavano dal punto di vista economico, a volte entrambe, come per esempio la Stonevilla, e McKennie fa marcia indietro, accetta le condizioni di ribasso della Juventus, e secondo me crea un precedente, perché oggi qualsiasi giocatore dentro quella lista degli esuberi della Juve, dovesse fare un passo indietro, verrà riaggregato, cioè, anche Chiesa, non prendiamoci in giro quindi con Chiesa fuori dal progetto tecnico, perché a Tiago Motta non piace come difende Chiesa, ce l'eravamo già detti, anche nella live doveva un commentato Chiesa che metteva le moticon bianca e le moticon nera, ragazzi non facciamola passare come una richiesta tattica di Tiago Motta, facciamola passare come una richiesta contrattuale, quindi questo giorno, questa scelta del rinnovo di McKennie, apre un precedente, che secondo me poi si proietta anche sulla Juve, perché io credo che sia difficile commentare questa notizia, per forza di cose si deve essere combattuti, su quello che stiamo vedendo, certo, dal punto di vista della logica, dici, la Juventus a quelle condizioni non lo voleva, quindi l'ha messo fuori rosa, ha usato il pugno duro, per poi ritrovarselo con le proprie condizioni, quindi da questo punto di vista, uno potrebbe dire, la Juventus è stata impeccabile, secondo me però si apre anche una discussione sul fatto che ci si è dimostrati incapaci di vendere McKennie, ma mica solo Giuntoli, mica solo Giuntoli, perché ripeto, la più grande figuraccia per me la fa McKennie, però credo che ne eschi indebolito anche Giuntoli da questa faccenda, e ne uscirebbe ancora più indebolito con Chiesa, perché nel momento in cui prendi una strada, prendi una decisione, cioè quelli lì sono fuori rosa, li vendono, non li voglio più, reintegrarli secondo me non è mai una grandissima dimostrazione, infatti avevo detto, per quanto io non fossi stato d'accordo con la linea di mettiamoli fuori rosa pubblicamente, oggi il reintegro di Chiesa, per quanto secondo me sarebbe essenziale, per come la Juventus oggi, avere Chiesa lunedì sera col Como sarebbe meraviglioso, abbiamo commentato pochi minuti fa dicendo che Chiesa è stata messa fuori rosa, non si allena più con la prima squadra, o è una mossa di Giuntoli per dirgli muoviti e rinnova, però allora vorrei anche capire qual è l'equilibrio tecnico e qual è l'equilibrio finanziario, cioè la Juventus in quale ambiti si sta muovendo, perché avere Chiesa e non avere Chiesa non può essere la stessa cosa dal punto di vista tecnico, se vai su un altro giocatore al posto di Chiesa avrà delle caratteristiche diverse, non puoi dire voglio soltanto un giocatore che giochi al posto di Chiesa che mi occupi quella casella dal punto di vista salariale, cioè vorrai anche un giocatore che sarà più impattante dal punto di vista tecnico, poi McKennie secondo me ha la sfortuna tra virgolette di inserirsi in un reparto in cui la Juventus comunque è coperta, perché se vogliamo l'unico al momento ricambio è Fagioli, ci sarebbe Cobbeners in arrivo, Miretti è infortunato, quindi la Juventus da quel punto di vista a centrocampo è forse il reparto dove è maggiormente coperta, poi McKennie è molto utile, potrebbe giocare anche in altre posizioni, quindi quello è un discorso a parte. Io però vorrei anche fare un ragionamento su quella che è la storia di McKennie e la Juventus, perché secondo me davvero la discussione deve essere qui, cioè io vorrei capire la Juventus come considera McKennie, al di là di quello che è il punto di vista economico, quindi un giocatore che può valere top milioni. Lo acquistiamo, 20 milioni dallo Schalke 04 mi pare. Viene acquistato per Pirlo, fa una buona stagione sotto Pirlo, cambia l'allenatore Allegri, fa una stagione sotto Allegri dove viene utilizzato in un'altra porzione di campo, inizia la stagione successiva da titolare, gioca a titolare una partita da scudetto, Juventus-Napoli con la Juventus-Napoli che era lì lì con i punti in quel momento lì particolare, dopo una settimana a parte viene ceduto in Premier con prestito, con obbligo di riscatto se si salva la squadra in cui va a giocare McKennie. Quindi la Juventus lì aveva preso una decisione, aveva fatto una scelta, McKennie lo cedo, che sia un discorso economico, lo cedo perché quei soldi sono tanti e quindi lo voglio cedere, può essere. McKennie non si salva, retrocede, torna alla Juve, viene messo fuori rosa dalla Juventus, giunto li rettifica dicendo che McKennie non è fuori rosa, reintegrato, diventa un titolare, diventa uno dei giocatori migliori, il migliore a centrocampo l'anno scorso, quest'anno proposto rinnovo, lo rifiuta, messo sul mercato, praticamente ceduta una squadra, marcia indietro, non si allena neanche col gruppo e poi viene reintegrato il rosa. La storia di McKennie è una storia folle se ci pensiamo, io fatico a ricordarmi una storia simile per un calciatore, quindi la domanda mi sorge spontanea, come lo valuta la Juventus-McKennie? Lo considero un calciatore forte? Lo considero un calciatore scarso? È questo che non riesco a comprendere. Lo considero un calciatore che se c'è non c'è non fa differenza? Lo considero un giocatore che viene visto semplicemente come una rotazione, quindi è meglio averlo che non averlo? Un giocatore che se domani arriva a offrirmi 15 milioni di aeroporto e un pacchetto? Io questo vorrei capire, perché oggi il calcio per forza di cose deve scontrarsi con l'economia. È una regola non scritta del calcio di oggi, perché le squadre fanno tutte fatica, state vedendo che Atalanta va su quell'altro, si chiede con Mainers, la Fiorentina prende Gudmundsson per liberare Nico, l'Inter è incastrata quindi non può fare il colpo, il Napoli deve rinunciare a Brescia perché costa... Cioè, ogni squadra oggi è bloccata, la Roma che deve cedere di bala, se vuol provare anche solo ad entrare su chiesa. Ogni squadra deve prima, oggi in Italia, dare un'occhiata al bilancio. E questo è un dato di fatto, questo è scontatissimo. Però poi, allora mi vieni da dire, io che sono sempre stato un sostenitore del calciomercato, della Juventus di quest'anno, ho una logica, è andato tutto in una direzione, è stato programmato bene, se vuol fare con Mainers come piano A, allora il fatto che poi i reintegri rosa, certo le tue condizioni, certo al ribasso, certo non come voleva loro, di giocatori che potrebbero arrivare oltre a McKennie, allora mi dico, allora è una sessione di calciomercato finalizzata solo ad abbassare il montingaggio, abbassare gli ammortamenti, abbassare eccetera eccetera eccetera, perché è una priorità? Cioè questa è una priorità della Juventus, non c'è nulla che qui non torni, è una priorità della Juventus, ma poi la Juve deve ragionare anche dal punto di vista sportivo, ripeto, avere Chiesa non averlo, McKennie non averlo, Nicolussi non averlo, Rugani non averlo, cioè, che poi vedi, non è solo dal punto di vista economico, perché comunque Rugani l'ha rinnovato al ribasso, ma è comunque fuori. E' una strategia molto complicata, secondo me, perché la Juventus sta giocando su mille tavoli, la Juventus sta multitablando, questo è un dato di fatto, cioè, aperte mille trattative, sta cercando di incastrare mille cose, ora siccome oggi si è resa conto la Juve, di non poterle fare tutte, e quindi sta sondando un po' il terreno, magari Chiesa ieri è stato messo fuori rosa, perché ha rifiutato nuovamente un rinnovo, non lo so, mi viene da pensarlo così, perché se ieri Chiesa viene tolto dall'allenamento in gruppo e oggi McKennie invece viene aggregato, 2 più 2 a casa mia fa 4, quindi probabilmente nella giornata di ieri c'è stato un colloquio di Tiago Motta con anche i calciatori fuori rosa e si è cercato di capire chi più chi meno potesse essere disposto a rimanere la Juventus anche a altre condizioni, non lo so, la sto buttando lì, sicuramente oggi si crea un precedente, vedremo se verranno reaggregati anche altri giocatori, soprattutto vedremo se la Juventus dovrà fare 5, 6, 7 cessioni oppure meno, Juventus gli ingressi li deve fare, non venitemi a dire adesso vabbè con Meners non ci serve numericamente perché c'è McKennie perché vado giù di testa, perché poi bisogna, ripeto, mettere il campo del calcio al primo posto e ci sono i valori dei calciatori per forza di cose, quindi è una situazione strana, mi rendo conto che sia un video strano, ma io sto cercando di prendere tutti i punti di vista, sto cercando di guardare la situazione da tutti gli angoli, cioè ci sono 360 gradi, voglio cercare di coprirli tutti, e per certe cose capisco, strategia vincente, per certe cose mi domando, boh, per certe cose invece guardo semplicemente a quella che oggi è la carriera di McKennie e mi dispiace perché il ragazzo secondo me è abbastanza confuso su quello che vuole, che deve fare, è un rinnovo che è ovvio, fa piacere, è un giocatore che comunque all'Aventus secondo me ha fatto bene da quando c'è, però è anche un giocatore molto particolare per utilizzo, per importanza, per carriera, per spostamenti, ma proprio per la valutazione che l'Aventus in sé sta facendo del giocatore. Io non ho ancora capito le priorità di McKennie, non ho ancora capito la valutazione dell'Aventus su McKennie, fatto sta che oggi abbiamo questa notizia da commentare, l'abbiamo fatto in attesa di vedere se ci saranno anche altri giocatori che rientreranno all'interno della Rosa della Prima Squadra. Molto particolare, come tutte le strategie di questo calcio mercato, devo dirvi la verità, mai avrei pensato di commentare un calcio mercato simile come quello che stiamo vivendo nell'estate 2024, ma anche questo significa che il calcio sta andando verso una direzione nuova e totalmente particolare.